Le neuroscienze hanno dimostrato che tutte le decisioni che prendiamo derivano da un mix di attività del nostro cervello. Questo significa che anche le scelte che consideriamo razionali in realtà sono influenzate dalle emozioni, che ci aiutano a prendere decisioni più ponderate. La persuasione quindi deve operare in maniera profonda per stimolare le emozioni che favoriscono la scelta consapevole del nostro cliente. Sai qual è lo strumento più potente per persuadere il tuo interlocutore? Il linguaggio. E le parole che usi possono far propendere il tuo cliente verso l'acquisto o meno. Possono inoltre far agire o meno i tuoi collaboratori. Ecco perché nei percorsi di Assicuratore Vincente dedichiamo molto tempo all'allenamento sul linguaggio persuasivo. Non perdere tempo e fissa ora una colla strategica gratuita per imparare come utilizzare il linguaggio persuasivo nel tuo lavoro.